durante la spaventosa epidemia di colera che infierì su New York avevo accettato l'invito di un parente a passare un paio di settimane in isolamento in un suo cottage sulle rive del Hudson disponevamo di tutto quanto normalmente può servire per le vacanze estive eravamo attrezzati per le passeggiate e le escursioni nei boschi per le gite in barca per la pesca i bagni la musica la lettura avremmo potuto passare abbastanza piacevolmente il tempo se non fosse stato per le spaventose notizie che ci arrivavano tutti i giorni dalla popolosa città non passava giorno senza che ci si portasse notizia della morte di qualche conoscente poi con l'aumentare della mortalità avevamo imparato ad aspettare l'annuncio giornaliero della morte di un amico finimmo così per tremare all'avvicinarsi di qualche messaggero l'aria stessa del sud ci sembrava recare odore di morte questo pensiero ossessionante si impossessò a tal punto della mia anima e non riuscivo più a dire pensare persino sognare altro il mio ospite che era di temperamento meno eccitabile sebbene molto depresso nello spirito si sforzava di sollevarmi il morale notato di grandi capacità speculative non si lasciava mai influenzare da cose irreali era sensibile alla sostanza del terrore ma non lo impressionavano le sue ombre i suoi sforzi per trarmi fuori dallo stato di normale depressione nella quale ero caduto erano in larga misura frustrati da certi volumi che avevo trovato nella sua biblioteca avevano la forza di far germogliare quei semi di atavica superstizione latenti nel mio intimo avevo letto questi libri a sua insaputa e quindi egli era del tutto ignaro della profonda impressione che avevano esercitato sulla mia fantasia uno dei temi da me preferiti era la credenza popolare sui presagi una credenza che in quel periodo della mia vita ero disposto a difendere prendendola quasi sul serio su questo argomento avemmo lunghe animate discussioni e mentre lui sosteneva l'assoluta infondatezza delle credenze in materia io invece gli obiettavo che sentimenti popolari nati con assoluta spontaneità cioè senza apparente traccia di suggestioni avevano in se stessi elementi inconfondibili di verità e avevano quindi diritto al massimo rispetto il fatto è che dopo il mio arrivo ai cottage mi capitò un incidente del tutto inesplicabile che aveva in sé tanti elementi prodigiosi da giustificare la mia inclinazione a considerarlo un presagio mi spaventò e allo stesso tempo mi confuse e disolientò al punto che passarono molti giorni prima che mi decidessi a parlarne al mio amico quasi al tramonto di un giorno eccezionalmente caldo stavo seduto con un libro in mano davanti a una finestra aperta lasciando errare il mio sguardo sul panorama lungo le rive del fiume fino a una lontana collina il fianco della quale esattamente quello più vicino a me era stato denudato della maggior parte degli alberi da una frana i miei pensieri si erano a lungo distolti dal libro che avevo davanti per induciare sulla tristezza e la desolazione della vicina città alzando gli occhi dalla pagina mi caddero sul fianco nudo della collina anzi furono attirati da un oggetto spaventoso qualcosa come un mostro vivente di orribile aspetto che molto rapidamente scese giù dalla sommità alla base della collina sparendo infine nella fitta foresta sottostante quando questa creatura da incubo apparve ai miei occhi in un primo momento dubitai della mia integrità mentale o quantomeno della bontà della mia vista passarono molti minuti prima che riuscisse a convincermi di non essere matto e di non aver fatto un sogno eppure quando descriverò il mostro che peraltro visto distintamente e ho avuto modo di seguire con calma per tutto il tempo che ha impiegato a compiere il suo percorso i miei lettori temo incontreranno più difficoltà da convincerci di questi fatti di quante non ne abbia avuto io stesso cercando di valutare la mole della creatura in rapporto al diametro dei grandi alberi presso i quali passava i pochi giganti della foresta che erano sfuggiti alla furia della frana conclusi che doveva essere più grande di qualsiasi nave di linea in attività dico nave di linea perché la sagoma del mostro ne suggeriva l'idea lo scafo di uno dei nostri 74 può dare un'idea abbastanza esatta del suo profilo la bocca dell'animale era posta all'estremità di una proboscide lunga una ventina di metri e grossa come il corpo di un comune elefante vicino alla radice di questa escrescenza si vedeva un'immensa quantità di arruffati peli neri molti di più di quelli che avrebbero potuto fornirne le pelli di una mandria di bufali da questo pelame sporgevano sui lati all'ingiù due zanne scintillanti non diverse da quelle di un cinghiale solo infinitamente più grandi protesa parallelamente alla proboscide e da ogni lato di essa c'era una gigantesca asta lunga una decina di metri apparentemente di puro cristallo a forma di perfetto prisma essa rifletteva nel modo più fantastico i raggi del declinante sole la proboscide era a forma di cuneo con il vertice diretto verso terra da essa si aprivano verso l'esterno due coppie di ali ogni ala raggiungeva la lunghezza di quasi un centinaio di metri in ogni coppia un'ala era piazzata sopra l'altra e tutte erano ricoperte da spesse scaglie di metallo ogni scaglia aveva apparentemente un diametro di oltre tre metri osservai che ogni ala superiore era unita alla corrispondente inferiore da una robusta catena ma la peculiarità principale di questa cosa orribile era la raffigurazione di una testa di morto che copriva quasi interamente la superficie del suo petto e che era tracciata con precisione in uno scintillante color bianco su fondo nero del corpo come se fosse stata disegnata con grande cura da un artista mentre guardavo il terrificante animale e più specialmente l'immagine sul suo petto con un senso di orrore e di timore miste una sensazione di sciagure incombente che mi riusciva impossibile colmare malgrado ogni sforzo della ragione vidi le enormi macelle all'estremità della proboscide spalancarsi all'improvviso e uscì un suono così forte e pauroso che colpì i miei nervi come un rintocco funebre quando il mostro scomparve ai piedi della collina caddi svenuto al suolo quando mi fui ripreso il mio primo impulso fu naturalmente quello di informare il mio amico di quanto avevo visto e udito è difficile spiegare la riluttanza che alla fine mi impedì di farlo tre o quattro giorni dopo il fatto una sera eravamo seduti insieme nella stanza da cui avevo visto l'apparizione io occupavo la stessa sedia davanti alla stessa finestra il mio amico un sofà vicino il ripetersi della situazione nel tempo e nel luogo mi diede l'estro di riferirgli il fenomeno occorso mi ascoltò fino alla fine in un primo momento rise di cuore poi poco alla volta si fece estremamente serio come se la mia pazzia fosse ormai fuori discussione fu proprio in quel momento che vi di nuovo la visione distinta del mostro sul quale con un grido di terrore richiamai la sua attenzione e gli guardò molto attentamente ma ripete che non vedeva niente nonostante gli descrivessi minutamente il percorso della creatura che discendeva verso il basso sul pendio nudo della collina ora ero incontrollabilmente allarmato e la visione mi sembrava un presagio di morte o peggio ancora il sintomo di un attacco di follia mi ritrassi bruscamente e mi accasciai sulla sedia e per qualche momento mi nascosi il viso tra le mani quando mi scoprì gli occhi l'apparizione non era più visibile il mio ospite aveva riacquistato un contenio assolutamente calmo e mi fece domande molto precise sull'aspetto della creatura immaginaria quando ebbe soddisfatto ogni sua domanda respirò profondamente come se si fosse liberato da un peso intollerabile e cominciò a parlare con una calma che mi sembrò crudele di vari argomenti di filosofia speculativa che erano già stati oggetto di discussione tra noi due ricordo la sua particolare insistenza tra le altre cose sull'idea che la principale fonte di errore in tutte le valutazioni umane risiede nella difficoltà di comprendere che le dimensioni di un oggetto possono essere sopravvalutate o sottovalutate da un'imprecisa stima della distanza a cui si trova per valutare ad esempio disse l'influenza esercitata sull'umanità dal diffondersi della democrazia non si dovrebbe tralasciare come elemento di giudizio la distanza nel tempo in cui questa diffusione potrebbe compiersi eppure può citarmi il nome di un solo autore di argomenti politici che abbia considerato questo particolare aspetto della sua specializzazione almeno degno di essere preso in esame a questo punto fece una breve pausa si avvicinò alla libreria e ne prese uno dei trattati correnti di storia naturale mi chiese di scambiarci di posto per poter leggere meglio i minuti caratteri del volume spostò la mia poltrona verso la finestra e aprendo il libro riprese il suo discorso con lo stesso tono di prima se non fosse stato per la straordinaria precisione disse della sua descrizione del mostro molto probabilmente non mi sarebbe riuscito mai di dimostrarle che cosa fosse prima di tutto mi permetta di leggerle la descrizione ad uso degli scolari del genere sphinx della famiglia delle crepuscolarie dell'ordine dell'epidoptera della classe degli insecta cioè insetti la descrizione è questa quattro ali membranose coperte di piccole scaglie colorate di aspetto metallico la bocca a forma di proboscide arrotolata creata per un allungamento delle macelle sui cui lati si trovano rudimentali mandibole ed appendici boccali pelose le ali inferiori sono attaccate alle superiori da un filamento capillare rigido le antenne hanno la forma di un bastone allungato prismatico addome puntito la sfinge testa di morto ha provocato un tempo molto terrore tra le genti del popolo per il suo grido lamentoso che emette e per i simboli della morte che porta sul corsaletto a questo punto chiuse il libro e si sporse in avanti sulla sedia disponendosi proprio nella posizione che io occupavo al momento di scoprire il mostro ah eccolo disse prontamente sta ridiscendendo il lato della collina ed è una creatura veramente notevole lo ammetto soltanto non è così gigantesca e distante quanto lei aveva immaginato poiché sta compiendo il suo tortuoso cammino lungo un filo che qualche ragno ha teso sul telaio della finestra ritengo che la sua lunghezza massima sia circa un millimetro e mezzo e che sia altrettanto distante dalla pupilla del mio occhio